Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal dopo la fase di maltempo invernale con nevicate la conclusione dell'allerta per la giornata di oggi il tempo è in miglioramento poi domani giovedì ci sarà un nuovo peggioramento con un aumento della copertura nuvolosa fino a venerdì miglioramento nel fine settimana il dettaglio oggi mercoledì 7 febbraio soleggiato su tutta la regione con addensamenti localmente consistenti in serata sul centro levante per l'ingresso di un flusso di aria umida nei bassi strati venti moderati dai quadranti settentrionali rotazione da sud ovest sull'imperiese mare mosso poco mosso temperature massime in aumento lungo la costa tra 9 e 15 gradi nelle zone interne tra 3 e 8 gradi domani giovedì 8 febbraio si intensifica il flusso umido dai quadranti meridionali che determina nuvolosità diffusa su tutta la regione nubi più consistenti sul centro levante dove non si escludono deboli rovesci venti in prevalenza deboli dei quadranti orientali mare mosso in aumento fino a molto mosso levante per onda da sud ovest temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 4 e 8 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 1 grado massime stazionare lungo la costa tra 10 e 13 gradi nelle zone interne tra 6 e 8 gradi chiudiamo con dopo domani venerdì 9 febbraio coperto con una fitta coltre di nubi basse si apriranno soltanto per brevi tratti sull'impresa dove sono attese timide schiarite venti deboli dei quadranti settentrionali sul centro ponente da sud ovesta levante mare in nuovo calo fino a mosso temperature minime in aumento lungo la costa tra 4 e 9 gradi nelle zone interne tra 2 e 4 gradi massime stazionare lungo la costa tra 10 e 13 gradi nelle zone interne tra 6 e 8 gradi è tutto seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it sulla pagina facebook di arpal a risentirci